Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Dopo la commovente vittoria al grande fratello, che ha visto per Lavattiero trionfare sulla favorita Beatrice Luzzi, la vita di Perla e del suo fidanzato Mirko Brunetti è tornata alla normalità. Finalmente riuniti dopo l'esperienza nel reality, hanno condiviso con i loro fan un piccolo incidente accaduto nella loro abitazione attraverso i social media. Perla ha mostrato ai suoi follower come stava applicando una tavoletta di ghiaccio sulla fronte di Mirko, raccontando l'accaduto. Allora ragazzi, devo raccontarvi cos'è capitato poco fa. Volevo appendere un nostro quadro sopra il letto, ma Mirko continuava a dirmi di non metterlo perché sarebbe caduto. Non l'ho ascoltato, l'ho appeso e dopo due secondi gli è caduto in testa. Fortunatamente, l'incidente non ha avuto gravi conseguenze, solo una bella botta in testa per Mirko. Tuttavia, alcuni fan più superstiziosi hanno interpretato l'incidente come un possibile segno del destino. Il quadro della coppia che cade in testa a Brunetti potrebbe essere un presagio. Questa è la domanda che si pongono alcuni seguaci della coppia. E voi, cosa pensate, è mai capitato anche a voi, un piccolo incidente come questo? Raccontatecelo qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore